Siamo i membri dell'associazione Tigre Bianca, ossia degli studenti che studiano cinese all'Università degli Studi dell'Insubria. Organizziamo varie attività, tra le quali i tutorati, il Cina Libro e il Cina Forum, vari seminari e uscite come uscite per il Capodanno cinese, per il Festival delle Lanterne e per varie mostre guidate. Inoltre, ogni estate, se possibile, organizziamo un viaggio in Cina. Se volete saperne di più sulla nostra associazione potete seguirci su Instagram a tigrebianca. Scegli oggi il tuo domani con tigrebianca. Grazie per la visione! Grazie per la visione!